Al 6 e 7 maggio mancano ormai solo 20 giorni. I cittadini saranno chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. E intanto proseguono le presentazioni delle liste e le inaugurazioni delle campagne elettorali. Ieri al Cineastro la convention del PDL alla presenza del segretario nazionale Angelino Alfano, che ha benedetto la candidatura di Totò Pennica di Epolis. Sono un ospite, dice però Pennica, mettendo le distanze. Aspri gli attacchi all'uscente Marco Zambuto da parte del partito. Non è stato all'altezza, dichiara Alfano. Durante il convegno Pennica torna indietro di qualche settimana, ricorda il PD, a cui dedica due parole. Hanno scelto l'alleato e non il candidato, dice, ammettendo di aver voluto una coalizione come quella al governo tecnico nazionale. Angelo Capodicasa, deputato del PD, replica. Il governo Monti rappresenta una fase di emergenza. Occorre progettare un percorso lungo 5 anni. Abbiamo così scelto alleato e candidato. E Pennica è il classico candidato del centrodestra, non più una candidatura fuori dagli schemi. presentata stamattina la lista del PD a sostegno di Mariella Lobello, presente il segretario regionale del partito, Giuseppe Lupo, e il direttivo provinciale del PD.